Sadio Fratelli Paschiero, siamo qui in compagnia di Ciro Pernice, l'ultimo nuovo arrivo, qui in casa bianco-rossa, siamo prima dell'allenamento del venerdì, manca poco al ritorno in campo per il campionato. Ciro, è stata una trattativa lampo quella che ti ha portato da Dronero qui a Cuneo, quali sono le sensazioni perché questo è stato comunque un movimento di mercato importante per il Gironi B? Sono innanzitutto felicissimo per l'opportunità, è stata una trattativa veloce, devo ringraziare dal mister a Vercellone, poi ho anche tanti amici qua, dal fisioterapista addirittura a tutti i ragazzi, è stato facile scegliere dopo il matrimonio finito col Dronero e quindi sono veramente felice, spero di poter dare il mio apporto, la mia esperienza per la causa e cercherò di dare il massimo. Naturalmente anche la Pro Dronero ha ricostruito un po' il tuo passaggio, adesso naturalmente non ti chiedo niente perché ormai diciamo che è acqua passata tra virgolette, io ti chiedo però insomma la trattativa come è stata, perché insomma è stata veramente lampo, hai avuto un modo di insomma sentire il direttore generale, penso che non ci siano state grosse esitazioni, non ci sia stato molto da pensare. Da quando mi ha chiamato mi hanno cercato di fare il possibile entrambi per trovare una soluzione, è stato veramente da questo, cioè nell'arco di due giorni si è definito il tutto e non ci sono stati assolutamente problemi, non avevo assolutamente esitazioni sulla destinazione successiva. Per te questo è un ritorno perché tu hai vestito la maglia dell'Olmo, ora è a Cicuneo 1905 Olmo, molti dei tuoi compagni li conosci perché ci ha giocato insieme, che gruppo hai ritrovato perché adesso si passa dal Piccapietra o da San Rocco Castagneretta al Paschiero, quindi c'è tutta un'altra realtà anche se il gruppo è molto molto simile. Innanzitutto la cornice è importantissima, che non sognerebbe giocare al Paschiero quando sei cresciuto a Cuneo, quindi su quello è un'opportunità che voglio godermi e viverla a pieno. E poi invece il gruppo, li conosco tutti, li conosco bene, sono felicissimo di essere rientrato nello spogliatoio, loro mi hanno accolto subito a braccia aperte, la cosa mi fa molto piacere e devo ringraziarli tutti. Adesso dovrai subito farti trovare pronto perché domenica si gioca, il Cuneo ha comunque due assenze importanti in difesa al centro, cioè Nasta e Marchetti, c'è la CBS che tu hai già affrontato con la Prodo Nero quest'anno, che partita ti aspetti? Io metto a disposizione poi il mister per fare le sue scelte, quest'anno voglio cercare di dare veramente il massimo e sarà una partita tosa perché le squadre di Torino sono sempre molto arcigne e sul piano agonistico si fanno spesso sentire. Secondo me non sarà facile ma davanti al pubblico cercheremo di portare a casa qualcosa di importante. Ti chiedo un'ultima cosa, tu questo Cuneo l'hai affrontato da avversario nel derby proprio con la Pro, il Cuneo è primo in classifica per quello che hai avuto modo di vedere dall'altra parte della barricata, insomma questo primo posto che effetto fa considerando nuovamente che tu e i tuoi compagni, insomma il gruppo lo conoscevi? I ragazzi vedendoli da fuori e avendoci giocato in passato insieme sono le loro qualità, giocano bene quindi ti diverti giocare in campo con loro quindi è una cosa piacevole. Adesso spero di riuscire a dare anch'io di continuare il loro lavoro che hanno intrapreso e di mettermi infatti spero di poter far bene da subito, loro giocano bene e devo calarmi nella realtà e mettermi a disposizione.